ed eccoci qua alla categoria che la gente preferisce di Twitch nonostante Twitch sia nata per il gaming ma non importa torniamo a noi quindi la scorsa volta avevamo fatto la tier list della Disney e di qualcosa ci mancava la Pixar nello specifico che comunque chiaramente è molto importante storicamente per l'animazione salve Danu quindi cominciamo subito con il primo il capostipite che è facile da ricordarsi sempre ovvero Toy Story porca miseria quanto è bello allora quindi prima di cominciare come il mio solito devo mettere le varie cose quindi i migliori poi mettiamo che ne so ottimi film buoni film poi vabbè forse varierà perché è troppo breve il distacco comunque film terribili e in realtà di questi li ho visti tutti anche se so che forse ne manca qualcuno e quindi direi che possa bastare quindi deleterosi deleterosi ok quindi tornando a noi allora dicevo Toy Story che dire il rivoluzionario si vede i suoi anni si vedono purtroppo però bisogna un attimo stare attenti perché comunque è stato fatto anche abbastanza bene anche perché la Pixar si era già allenata con dei vari corti per sperimentare appunto i vari loro programmi per realizzare film quindi chiaramente dopo un po' di però veramente il primo corto è una roba impressionante tanto li trovate tutti su youtube come sapete il primo corto che era Wally B e Sherman una roba del genere non c'entra niente con Wally chiaramente e quel primo quel primo corto è stato veramente impressionante poi e poi la gente mi ricordo che si stupiva perché si lamentava del fatto che la trama dei corti di una volta dei corti Pixar non ha senso perché sono abituati troppo bene ai corti di oggi ma una volta la Pixar non gliene fregava niente della trama voleva sperimentare quindi che se ne fregava cioè giusto provare qualche movimento infatti come ad esempio capitava in Tintoy che c'era il giocatolo che era stato fatto benissimo e poi c'era il bebè che era tutto una roba deforma tipo un alieno ciao ecco e quindi la gente si stupiva del cambio di qualità e beh ma perché loro si sono impegnati a fare Tintoy perché era appunto il protagonista e c'era in mente di fare questa cosa dei giocattoli e e quindi allora a parte tutte queste mille parole io Toy Story dove lo posso mettere perché allora allora lo so lo so che voi vorreste che il primo Toy Story lo metta tra i migliori per tutti quei feeling che avete ma in realtà se ci pensate veramente la storia non è poi così tanto capolavoro certo è bellissimo quello che volete ma secondo me non figura proprio tra i migliori secondo me perché l'ho anche riguardata di recente cioè c'è una bella evoluzione dei personaggi quello che volete ma non la non lo ritengo tra i migliori mi spiace ma rimane un ottimo film comunque sì esatto più che altro secondo me Toy Story si migliorerà poi successivamente poi andando prima in ordine dovremmo avere a Bugs Life che che qui poi come tutti sapete hanno tutti pensato che la Dreamworks avesse copiato Bugs Life non c'entra assolutamente niente se è la formica lo sapete ve l'hanno detto un po' tutti uno a caso da riamoccia per l'appunto che a Bugs Life esalta il gruppo quindi c'è quindi c'è si affronta la tematica del fatto che le cavallette che provocano terrorismo nelle formiche che si fanno più gosse in realtà poi Flick scopre che si rende conto che in realtà lo sono molto più quindi possono fargli il culo e quindi c'è questa sorta di maggioranza invece Z la formica è molto più sull'esaltazione dell'individuo stesso anche perché il protagonista è essenzialmente V di Allen in versione formica e quindi anche perché poi in Z la formica tanto poi parleremo anche di Dreamworks in realtà non c'è un altro nemico non ci sono altri insetti perché in Z la formica abbiamo sempre la stessa formica un'altra formica che è la cattiva della storia quindi è completamente diversa ci sono coloni di insetti in Abbax Life eh sì eh sì appunto quindi Abbax Life per certi versi in realtà a me è piaciuto più di Toy Story a dirlo tutta sinceramente quindi rimetterlo tra i migliori sì anche perché poi è una di quelle tematiche che la Disney come la Pixar non riciclano più perché poi questo è il bello no della Disney perché sono sempre bravi a riciclare le belle emozioni tutto quanto riciclatemi queste tematiche pesanti esponetevi un po' eh no però e chiaramente devono essere family friendly e quindi non si vedono più dei cartoni del genere e quindi in realtà personalmente Abbax Life è realizzato meglio di Toy Story perché semplicemente ci sono tematiche che a me piacciono di più rispetto a Toy Story che può essere educativo quanto volete però chiaramente come storia Abbax Life vince tutto cioè c'è la rossa e la nera poi abbiamo io non vorrei subito parlare di Cars per cortesia allora alla ricerca di Nemo veramente veramente un bel film capito da nessuno a quanto pare perché se dopo il film vediamo che la barriera coralina viene devastata perché ci sono un sacco di richieste di pesce pagliaccio vuol dire che c'è qualche problema tecnicamente quindi chiaramente lo definirei però in realtà è un bel viaggio è la ricerca di Nemo comunque insomma non è proprio tra i migliori lasciamolo qua poi abbiamo vabbè Monster & Company vabbè non gli si può dire niente cioè potevano andarci giù ancora più pesante secondo me per quanto riguarda le porte perché veramente i vari mondi che si susseguono secondo me sono stati affrontati poco e quindi poteva riuscire una roba alla Doctor Strange che quindi continuavano ad aprire porte su porte e non si capiva più in realtà l'avrei fatto semplicemente un po' più duraturo però complessivamente è tra i migliori della Pixar secondo me Monster & Company non c'è storia poi abbiamo vabbè incredibili che dire un bellissimo tributo nerd dalla Pixar dove appunto si citano tutti i supereroi si affronta anche il paradosso di dire ma se i supereroi salvano chiunque ma un supereroe vuole morire e quel supereroe lo salva è giusto che lo accusi secondo me secondo voi perché è veramente una bella domanda perché giustamente uno non è che può decidere per la vita di un altro sono a favore dell'utilizzo assolutamente però appunto è veramente un bel problema ma anche perché poi in realtà la cosa strana di questo film è che anche se viene accennato questo si viene accennato questo problema che in effetti non è mai stato affrontato in nessuno formetto Marvel e DC la cosa strana è che poi si sposta tutta l'attenzione sul fatto che c'è sindrome che deve vendicarsi contro un mistero incredibile quindi coinvolge anche tutta la famiglia mentre c'è e quindi si parla di tutt'altro quindi in realtà sarebbe stato interessante ma niente Monster & Company ho detto che secondo me poteva essere un nuovo Doctor Strange peccato che le porte che si susseguivano erano troppo veloci quindi uno non poteva un attimo abituarsi per rendersi conto che subito le cambiavano quindi chiaramente è tra i migliori anche per le varie tematiche che affronta sui mostri che spaventano sempre i bambini ma poi e quindi sia un film da loro punto di vista e quindi è anche è anche geniale l'idea che usano le loro urla per in realtà alimentare tutta la loro città e poi per poi scoprire che in realtà le risate danno più energia questo è un po' come per testo fosse fiabesco però dettagli ah e poi comunque ricordiamo eh sì però poi ricordiamo che in realtà la Pixar fino a Cars non voleva collaborare con la Disney perché la Pixar ha sempre odiato il filone fiabesco della Disney e fa molto ridere questa cosa perché poi comunque la Disney in qualche modo chiaramente è riuscita a convincere la Pixar ad unirsi veramente e infatti noto un leggero calo di qualità rispetto a prima come per esempio l'assenza di tematiche come a Bugs Life sarà un caso che i nuovi film Pixar non affrontino più tematiche così pesanti da quando si sono sminti con la Disney ma comunque non so se siete d'accordo comunque un attimo solo che tanto lo sapete che dovete passare quindi continuando dicevo per quanto riguarda gli Incredibili appunto la cosa mi aveva stupito perché si affronta un tema interessante e poi ritorniamo sul fatto semplicemente di un cattivone che deve vendicarsi contro Mr. Incredibile che era abbastanza sgamabile perché comunque la faccia quella era quindi non è che bisognava aspettare che ci dicesse sono il tuo ammiratore numero uno cioè quella è la frase iconica del film e no è tra i migliori non c'è niente da dire non c'è niente da dire sugli Incredibili è veramente senza difetti secondo me eh sì un po' è morto nel sequel tutta la bellezza che c'era nel primo ma dettagli ci arriveremo io non so se voglio parlare di Cars raga posso dirvi che non voglio parlare di Cars vabbè allora facciamo ancora Toy Story 2 che invece è un buon sequel devo dire per essere un sequel sebbene sia semplicemente a parti invertite cioè che non c'è Buzz che dice a Woody di essere un giocattolo perché se no non aveva senso il primo film però è comunque a parti invertite dove c'è comunque Buzz che deve correre dietro a Woody per dirgli no dai stai con Andy bla bla e Stinky Peek è abbastanza stronzo come cattivo quindi boh in realtà c'è non niente da dire ma poi anche il sogno che aveva fatto eh sì poi anche il sogno che aveva fatto Woody quando gli è stato strappato il braccio e che Andy non voleva più giocare che poi è diventato un meme ma nessuno forse si ricorda di quelli che fanno sto meme secondo me non si ricordano bene il perché c'era sta scena comunque sicuramente è tra i migliori secondo me si arriva proprio all'ideale col secondo film sì perfetto e quindi arriviamo a Kars dai togliamoci sto schifo di Kars io veramente allora aspetta c'è da dire una cosa però mi discosto un po' magari da quello che pensano tutti in realtà il primo Kars aveva delle qualche potenzialità sebbene poi si affrontano sempre quelle stesse tematiche del fatto che è che semplicemente c'è questo protagonista che se la tira è tipo un Iron Man un po' alternativo che ma che poi scopre alla fine che in realtà non è non è non contano solo tutte le cose che pensa che quindi appunto da questa città rinasce un po' e quindi in realtà un pochino di potenzialità c'era no poi è andato tutto in vacca in realtà però lo direi io direi che è ancora un film decente secondo me il primo almeno il primo lo possiamo salvare eh sì no no ma no ma va a parte che l'avevo anche cioè la maggioranza sì però ce ne erano anche molti ben dislocati in in ogni in ogni posizione quindi non è che li ho messi tutti in cima poi successivamente parliamo di bla 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 vabbè Wall-E Wall-E subito qua e tra i migliori non ce n'è raga cioè questi qua sono riusciti a far esprimere farti capire cosa prova un robot senza neanche farlo parlare cioè già per questo vince tutto anche se in realtà è una cosa che già abbiamo visto con il gigante di ferro quindi in realtà non è nuovissima ma qui è totalmente diverso chiaramente e e poi niente cioè come al solito Wall-E è un post apocalittico più di così veramente c'è una grande critica sociale come piace a me e non posso non metterlo in cima queste cose mi piacciono un sacco e poi cos'altro possiamo attaccare con non so se mi sentite ancora in realtà ma per sì 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 che l'audio è basso dicevo quindi attacchiamo con Ratatouille che mi è piaciuto effettivamente abbastanza in molti non si ricorderanno dell'unica scena traumatica del film quando il padre vuole spiegare perché i topi odiano tanto gli umani e gli fa vedere quella scena traumatica dove ci sono tutti i negozi tutti i topi avvelenati veleno per topi eccetera che è una scena anche abbastanza forte ma nessuno se lo ricordo solo che ti insegna a cucinare il film sì ma non è così allegro per fortuna che ci sono anche delle parti un po' più tetra realistiche però 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 Ratatouille secondo me va un po' più in basso non è proprio tra i migliori uno spicca perché capisco il tutto ma complessivamente non può essere ai livelli degli altri cioè oggettivamente dai e poi abbiamo Up signori che io senza eh sì vabbè è un ottimo film non è un'offesa sì però poter cioè insomma non lo trovo abbastanza duro e crudo come magari possono essere gli altri poi chiaramente quindi è un po' così la mia valutazione però un po' opinabile però poi abbiamo signore e signori abbiamo questo Up che io ingenuamente ho detto il film mi piace quindi sarà bello il gioco ma che gioco vuoi fare che c'è come protagonista un bambino sovrappeso un vecchietto ma cosa deve uscire di gioco infatti era una ragna anche su DS che poi tra l'altro che come sappiamo ogni volta che c'è un gioco multilettaforma nasce su DS ed è peggio delle altre console ogni volta perché era sempre la più scarsa di turno io avevo quella quindi era bellissimo vocali song tutto e e qui però allora e poi come film invece parlando strettamente del film abbiamo un grosso problema perché non è possibile che nella prima metà di film è super interessante e poi nella seconda metà vediamo un combattimento anche abbastanza noioso perché sono due vecchietti io capisco l'intento che magari non voleva essere un combattimento alla drag ma voleva essere una sorta di parodia di vedere questi due vecchietti però che cioè a un certo punto non so cosa succede a sto film ma ha un mancamento e quindi succede un patatrak e perde di qualità all'improvviso ma perché? era così geniale? no no l'hanno voluto rovinare a metà finì sono scocciati non so cosa è successo è stato pazzesco quindi non so mi cade veramente perché se dovessi valutare la prima metà sarebbe tra i migliori però non mi puoi cadere così cioè eh sì sarò molto atipico ma è solamente un buon film mi spiace ma dopo con una calda di stile così è da rimpoverare poi eh sì poi abbiamo vogliamo parlare già di Inside Out che è amatissimo che è una bella metafora psicologica però secondo me ehm anche qua sempre una perché io devo sempre criticare doveva secondo me essere un po' più ehm democratico perché qua come vedete si dà di troppa importanza solo a tristezza ma perché non perché non potevano essere perché era difficile trattare nello stesso modo tutte le emozioni anche perché tra l'altro non so se lo sapete ma ho visto che Inside Out è tratto da un cartone nazista in realtà dove c'è sempre disneyano dove appunto si parlava di emozioni però era comunque una propaganda contro il nazismo comunque eh lo so però cioè dai perché tutti secondo me dovreste rivedere R.A.P. perché tutti hanno troppo un bel ricordo ma perché vi ricordate la prima metà e quindi è grazie che lo mettete tra i migliori se considerate la prima metà ma guardatelo nel complessivo guardate come all'improvviso smette di essere figo e iniziare a collare eh malissimo comunque eh tornando a Inside Out quindi secondo me ehm potrebbe insomma sì lo metto a livello degli altri ottimi film sì non c'è dubbio poi abbiamo chi abbiamo chi abbiamo tocca già sì sì infatti abbiamo poi anche eh de sì certo però cioè siamo sempre lì ma è sempre che devi cioè te lo aspetti troppo che si parli di tristezza perché ogni volta devono andare lì a parlare di quelle emozioni già avevano fatto avevano fatto poche emozioni però vabbè un po' ci sta però proprio buttarsi e concentrarsi solo sul valorizzare la tristezza è sempre una roba un po' tirata secondo me poi abbiamo eh ma poi vabbè di difetti ce ne sarebbero anche un po' anche perché poi appunto inside out vuole proprio semplicemente farti emozioni cioè è strano da dire ma poi la cosa bella è io magari mi aspettavo che succedessero delle varie cose che rispecchiassero le emozioni no le uniche cose le uniche emozioni che ti trasmette sono tristezza paradossalmente si parla di tristezza vuole trasmettere tristezza è tutta una tristezza anche quando abbandona l'elefantino viola che manco mi ricordo come si chiama tristezza è tutta tristezza quello che succede in sto film ma perché non parli di emozioni metti in risalto queste 4-5 emozioni e mi parli solo di tristezza ma capisco che sia una cosa complessa ma fare un lavoro completo vuoi fare un film sulle emozioni farlo come si deve secondo me ah ok comunque e lo so che è completo però te l'ho spiegato cioè secondo me questi sono i difetti perché per l'appunto tutti si ricordano solo della prima parte che è fighissima e siamo d'accordo poi non si sa cosa succede poi tocca quindi ah vabbè i due cars no vabbè no vabbè no vabbè c'è il degenero totale si pensa solo a vendere le macchinine e quindi si fanno i soldi schifosi comunque i film schifosi volevo dire quindi poi abbiamo The Brave che che non si capisce bene c'è una viva discussione sul fatto che Merida possa entrare a far parte delle principesse perché anche poi tecnicamente nel film è una principessa quindi dovrebbe far parte e ovviamente non si deve chiamare ribelle perché in realtà il film non si basa sul fatto che sta ragazza dica due parole alla madre ma è un po' la Mulana Pixariana quindi che in una società maschilista come quella dei vichinghi questa qua cerca ovviamente di dimostrare che è bravissima come come tutti gli altri le solite cose eh sì ho capito però non è molto istruttivo bello che Danu mi sta inseguendo col film precedente eh sì sì quindi The Brave insomma non è che sia tutto stato anche anzi lì in The Brave c'è stata una bella una bella campagna marketing perché nel trailer sembrava più bello quindi purtroppo è solo un ottimo film e però cosa ma non cioè ma ma poi anche sto fatto ma non puoi distruggere tutti i film perché comunque sono storici dell'animazione è difficile che un film poi venga valutato malissimo perché stiamo parlando della Pixar non stiamo parlando della Scylum della Dingo Picture che allora metti tutto nella merda perché comunque è pizza voglio dire c'è la qualità eh sì poi abbiamo possiamo attaccare no in realtà c'è prima Toy Story 3 se non ricordo male e Toy Story 3 è una bellissima conclusione io faccio parte di quelle persone che pensano che debba finire con Toy Story 3 perché cioè era l'unico era l'unico punto che può dare il film perché è chiaro che i giocattoli come hanno sempre detto cambiano i proprietari in proprietario il fatto che Andy appunto alla fine dia i giocattoli a Bonnie era quello il punto perché se no è chiaro che capisco che magari per soldi uno farà anche il francese infinito e quindi gli passa in proprietario in proprietario però siamo sempre lì cioè è un bel punto di fine il fatto che Andy si privava dei giocattoli se si continua così è ovvio che cioè ma più o meno in ordine di uscita chiaramente non ho proprio il foglio davanti delle uscite però più o meno però sì magari può sembrare che siano a caso però sto andando più o meno a rigore di logica cosa mi sembra che sia uscito prima o dopo no vabbè no dai no dai sì quel di caso sono veramente una roba inguardabile non ma una storia tremenda proprio solo per vendere appunto come dicevo quindi stavo dicendo per Toy Story 3 doveva concludersi così anche perché purtroppo come sapete essendo anche molto frizzi a maggior ragione non abbiamo più il nostro voodoo di come si deve poi per carità ci hanno provato nel 4 ma la voce è completamente diversa ho capito no ma non è a livello del primo comunque poi comunque stavo dicendo per Toy Story 3 quindi dovrà chiudersi qua secondo me la saga perché logicamente lo vedete anche voi cioè non è non possiamo continuare all'infinito così e poi vabbè c'è già c'è quella scena commovente che anche io mi stavo immaginando spesso la Pixar quanto avesse implorato la Disney a fare una roba così tremenda cioè far vedere i giocattoli davanti all'incendio del titolo rifiuti che si tenevano per mano perché tanto cazzo vuoi fare e quindi già mi immaginavo di essere no no retorometizziamo i bambini chi pensa ai bambini poi per fortuna sono riusciti a metterla poi vabbè tanto arrivava poi l'artiglio grande citazione tutti felici e beh sì e poi abbiamo Incredibili 2 che come vi ho detto si va giù perché cioè è chiaro che si a parte che mi sembrano più brutti i personaggi rispetto al primo film non so come sia possibile essendo in avanti magari pensano di abbellirli ma secondo me li hanno imbuttiti perché non so prima avevano uno stile un po' più vero secondo me non so come spiegarlo c'erano proprio dei tratti più realistici e nel 2 sono troppo finti troppo CGI secondo me non so come perché lo stile grafico poi è lo stesso però non si sa cosa sia successo e niente in Incredibili 2 non c'è nulla di significativo quanto lo ha nel primo sì certo c'è lo stesso stile c'è un po' finimento dei personaggi però non è non aggiunge nulla rispetto al primo film anzi è molto più debole come trama c'è semplicemente questo super cattivo che in realtà a metà film già si capiva chi era perché è l'unico personaggio zitto zitto del film e minchia più losco di così non lo potevi fare però e quindi un pochino ci si poteva arrivare anche da solo in realtà e poi c'è il solito fatto che Elastigirl in realtà già prima di quando andasse di modo del girl power voleva salvare il mondo tutta la sola quindi in realtà non era neanche forzato questa tematica ma anzi era necessaria e poi anche cioè e poi mi dispiaci anche per jack jack perché ok che nel nel 2 si dà anche spazio a lui ma è una gag che non c'entra niente con la trama è quella la cosa che mi ha stupito potevi anche non guardare quella scena di jack jack e comunque la trama andava bene lo stesso quindi è bellissimo nonostante poi c'era anche stato quel cartone di jack jack attack che faceva sclerare la babysitter perché questo guardia gli stava avere tutti i poteri e poi verso la fine si vede che alla fine è lui che sconfiggi Siberius c'è il sindrome in realtà come battaglia finale e poi nel 2 semplicemente litiga con un tasso ma veramente mi ammazzate così un personaggio vabbè quindi in realtà poi per carità è bello da vedere no a livello di up no soprattutto pensando anche a quanto hanno distrutto perché avevano con base il primo film fra un sequel del genere e allora è più penalizzante ancora perché non è un filmato da zero ma quindi secondo me è ancora peggio poi abbiamo allora il viaggio di Ador è una roba noiosissima tremenda prevedibile che di più non si può io non so come la gente possa averlo apprezzato perché si parte da un incipit molto bello e poi però la storia è tutta una noia totale cioè sto viaggio dove succedono le cose che ti aspetti perché ormai cominci ad aver visto talmente tante cose da Pixar che niente ti sorprende più quindi sai già dopo aver saputo come sono caratterizzati i personaggi sai più o meno come va a finire quindi c'è un problema di gimmick gravissimo secondo me in questo film che hanno pensato ma sì ma figurati se i bambini pensano al gimmick sì vabbè ho capito però questo ti rovina un po' secondo me la visione poi vabbè poi c'è stata una roba vabbè tanto Luca non l'ho visto quindi va bene così a parte che Luca si è Pixar e comunque non l'ho visto comunque stavo dicendo e poi la scena che più vi ricordate di più del viaggio di Arlo è la spudolata copia del re leone ma che poi era forzatissima se vi ricordate quando il padre di Arlo a un certo punto fa no vabbè adesso visto che fai più cagare tutti i tuoi fratelli allora adesso devi andare a recuperarti la preda che stavi perdendo e quindi corrono corrono e il figlio gli fa guarda che sta per piovere secondo me andiamo nella merda no 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 andiamo fino alla fine poi quando hanno visto finalmente il film ho detto ah no magari fosse il caso e quindi alla fine forziamo la scena del re leone io non so io non so no vabbè ma tanto cioè vabbè c'entra relativamente con la trama perché poi il viaggio è tutta un'altra cosa separata quindi non è tanto spoiler però è bellissimo questa cosa no però raga no è giusto decente ma non non ci siamo non ci siamo Pixar che cazzo fai poi 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 parliamo invece di Coco raga io non so se voi avete visto il libro della vita io l'ho visto di recente Coco ho paura che copi parecchio anche se la gente dice no ma perché è così eccola ci sono differenze sì ho capito che ci sono differenze eh io capisco che ci sono delle differenze però poteva poteva non essere ispirato se semplicemente aveva come base la festa dei morti sudamericana il problema è no perché si aggiungono anche altre cose ovvero anche il fatto che uno dei protagonisti che poi alla fine uno è il protagonista l'altro è secondario il protagonista vuole suonare e gli si viene negato perché deve fare il torero e vabbè ma allora e ma allora perché avevi la famiglia torera e quindi devi fare il torero anche tu dai dai Coco non me lo puoi copiare così tanto dai è la stessa tematica questa ed era proprio personale di quel film quindi è una cosa che va al di là del fatto che si voglia fare un'opera basata sulla festa dei morti sudamericana cioè veramente poi abbiamo anche qui una vecchietta che però è un po' diversa perché ovviamente nel nel libro della vita in realtà è una vecchietta tipo la Madrascar quindi che in realtà è vivace comica e non è così come quella vecchia saggia eccetera e quindi ma dopo quando l'ho scoperto ho detto no vabbè ma quante cose ha in comune cioè mancava solo più che davano quell'oggettino in Coco che ti rende immortale ed era identico spiace che non l'hanno messo però poi alla fine cosa succede quando anche poi il protagonista va nell'aldilà incontriano tutta la sua famiglia vedete quanta la trama si ripete nella vita è pazzesco comunque a parte notare queste somiglianze Coco comunque rimane vabbè toccante dai mettiamolo nell'ottimo film dai poi abbiamo alla ricerca di Dory che era un capitolo che non sapevi di voler avere quindi è interessante come la Pixar ci abbia visto lungo perché in effetti colma un po' quella trama di cui nessuno si era chiesto mai nulla cioè dove erano i genitori di Dory però è chiaro che non è che uno si vada a pensare è un po' come chiedersi allora perché non c'è il padre di Toy Story perché non c'è il padre di Andy e ma perché anche la Pixar ha dichiarato chiaramente non mi serviva non serviva la trama quindi non l'abbiamo mai inserito ma non è che ci debba essere non ci debba essere perché non è al punto della trama quindi hanno risparmiato sui modelli semplicemente non è che c'è un motivo chissà che strano come anche era anche uscito tutta quella quel creepypasta quasi del fatto che c'era ricorrente nei film Pixar questo A113 chissà cosa farà cosa sarà niente è solo l'aula in cui molti della Pixar si sono lavorati all'università tutto qua niente di granché semplicemente come ricorda piazzano questo numero in tutti i film non c'è niente di speciale comunque dicevamo quindi La ricerca di Dori non so però è il primo film ma neanche per mezzo secondo quindi va bene qua poi a un certo punto è stato bellissimo non so se vi ricordate la grande sorpresa che mentre stavate ascoltando tutto il film tranquillo La ricerca di Dori all'improvviso sentite lì ciaccolò così a un certo punto sotto c'è la voce di lì c'è quella del film ma che cazzo succede e invece c'è la trama vabbè non è che serviva molto la trama però l'hanno piazzata lì perché si parlava di lì fauna che c'era lì in quel park e quindi hanno piazzato la voce di giacolo così poi abbiamo allora parliamo prima di Monster University che secondo me è un altro prequel di cui nessuno fregava assolutamente nulla si perde un po' quella magia delle porte che secondo me e questo anche soprattutto Monster University ti fa capire quanto il film era basato su queste porte più che su tutto il resto ed è sostanzialmente cioè non una roba abbastanza noioso devo dire c'è ritrovi si capisci un po' come è nato il tutto ma a differenza di Monster and Company che proprio risplende per la sua originalità Monster University è abbastanza banale cioè diciamolo veramente banale soprattutto ma poi la cosa bella è farlo uscire dopo Monster and Company dove hai già inquadrato i personaggi e se non metti in un contesto universitario so già come va a finire perché c'è un problema di gimmick fortissimo all'ennesima potenza perché abbiamo i personaggi che già conosciamo da Monster and Company e in più nel contesto universitario che ha comunque la sua gimmick e allora sei stronzo cioè nel senso cioè vuol dire proprio che non volevi impegnarti hai semplicemente riunito due tasselli che già tutti gli spettatori avevano quindi bravi è un buon film veramente una roba mai vista terribui vabbè chiaramente sono sempre loro però direi proprio è un buon film semplicemente Toy Story 4 non dovrà esistere però hanno comunque serve giusto per diciamo spiegare l'assenza di Bobip che c'era nel 3 quindi sembrava Toy Story 4 che fosse quindi anche un film previsto perché appunto nel 3 non avevano spiegato dove è finita Bobip ma viene accennato che alcuni giocattoli mancavano ma chiaramente si parla solo di Bobip e poi c'è anche quella diciamo quella derivazione horror che poi ha avuto il film che è veramente blanda cioè io anch'io come al solito non sono un amante di quegli splatter e di solito quando ci si cercano il miglior horror della storia ti escono per il 90% splatter e non so il motivo a nessuno piacciono gli altri horror non si sa escono solo gli splatter e non so il motivo comunque a parte questo quindi chiaramente non essendo così tanto fan dell'horror andavo anch'io su quelli più leggeri mica però io capisco che sia un film per bambini però porca miseria ma non cioè è un horror proprio così perché c'è l'elemento ma è anche meno di piccoli brividi per farvi capire l'horror per quell'horror dico che se volete tra l'altro ci sarebbe anche l'audio comunque e quindi la cosa bella è questa che fa ancora meno parola di piccoli brividi che già non è che i piccoli brividi le cesse paura e quindi boh la cosa strana è che però il film funziona se non che io odio assolutamente cioè non è che odio Forky sì sì infatti c'è quello di bello però dico Forky per me è una stronzata di idea perché perché io capisco cioè ma qui siamo veramente alla pazzia perché finché i giocattoli parlano di giocattoli che sono giocattoli siamo d'accordo come aveva fatto Woody nel primo film con Buzz ma non mi puoi rompere le palle a una spazzatura che è Forky come appunto sottolinea più spesso ma lui è spazzatura e quindi ma non è che cioè ma non funziona così ma non è che io capisco che sia una brina tutto il resto ma è spazzatura c'è ragione Forky non è un giocattolo perché fino adesso siamo andati d'accordo sul fatto che Buzz non riconosceva quello che non era ma Forky riconosceva quello che era cioè è questo il paradosso che uno dice ma mi vai un po' in contrasto non è che Andy rompeva il cazzo tutta la spazzatura ricamava faceva cose e quindi andavi lì a dirgli sei un giocattolo non funziona così non è un giocattolo è spazzatura veramente e quindi per me è stata una roba pazzesca questa scena che si voleva tanto sottolineare su questo tratto di Forky ma che cosa vuol dire boh non si sa quindi complessivamente poi vabbè abbiamo anche Mimì e Cocco lì il peluche blu e giallo che si insomma hanno fatto vedere qualche sketch carino di come si immaginavano di salvare Woody ma niente di incredibile e per certi versi però considerando anche il fatto che ha un po' tradito il brand secondo me e ha preso una piega tutta sua va un po' più sotto è un buon film poi ho visto Onward anche lì Onward sempre le solite poi sempre le solite cose ma nel poi è chiaro che per fortuna nel mezzo delle solite cose ce l'ho messo un po' di originalità perché se no era tremendo però siamo sempre lì io me l'aspettavo che a un certo punto questi due fratelli avrebbero litigato mi sarei aspettato che poi si chiedevano scusa perché chiaramente la Pixar non ha un target abbastanza adulto che puoi raccontare una storia dove i fratelli a un certo punto litigano e stanno per un po' di anni a litigare perché lì veramente in Onward addirittura si arriva ad un livello dove questi due fratelli potrebbero anche non parlarsi più ma è Pixar e quindi ma sì non importa e questa è la cosa che mi fa nervosire rimaniamo realistici per cortesia proponi un'idea e poi fino in fondo non è che dici no ma poi siamo alla Disney e quindi deve tutto tornare ma stiamo scherzando e quindi poi per il resto anche qua si parlava tanto di magia e poi tanto magia non c'era poi alla fine c'è ci sono ciclature magiche e poi questo qua tenta di spawnare qualche magia ma non è che ci sia tutta sta magia secondo me ciao e quindi Onward mi è veramente deluso sì anche perché poi fanno tutto un viaggio che non serve assolutamente una mazza se non a farli crescere dai la trama di Drago cioè fai un viaggio solo per crescere dai però non mi dai neanche qualcosa di nuovo è stupendo allora dove lo mettiamo Onward perché non dico che sia a livello di Cars però allora è giusto un buon film giusto perché poi ci sono anche i doppiatori sia italiani che americani di Chris Pratt e di Tom Holland quindi è anche piacevole però tutto sommato non è che sia tutto sto branche e poi abbiamo l'ultimo Soul che io ho visto che sembra che questo film il problema di questo film secondo me è che si crede chissà chi ti fa il dialogo sui massimi sistemi ma in realtà è un film per bambini e quindi tutti questi massimi sistemi non sono e quindi secondo me perde un po' lo scopo finale del film che c'è questa verità troppo grande di come bisogna vivere la vita dai però cioè anche perché poi è tutto ricco di gag il fatto che poi lui e l'altra anima si scambiano uno va nel gatto cioè si perde un po' secondo me nel suo perché nel suo peccato perché il problema secondo me è sì lo so ma perché come come dicevo prima dovete guardarvi up perché è solo la prima metà che è una figata il resto muore il film vedete che a metà in poi il film muore non si sa cosa gli succede c'è un mancamento e non ce la fa più a reggere lo standard che aveva dato fin dall'inizio comunque e diceva e quindi in soul abbiamo sta roba che è veramente è veramente pretenziosa e non ce la fa neanche un po' ma perché secondo me perché comunque si pensa sempre i poveri bambini e quindi secondo me soul non riusciva ad elevarsi bene perché comunque voleva parlare sempre ai bambini questa è la cosa cioè secondo me io capisco che è giusto perché l'azienda ha scelto questo target ma una volta appunto come è successo in a bugs life e pressoché in tutti i migliori che ho messo non è stata mai una caratteristica che fermava i contenuti soprattutto anche in rolli per esempio soprattutto si parla era una critica fortissima all'umanità e funzionava ed era faceva veramente male guardarlo cioè non dico proprio ai livelli di black mirror ma quasi nel senso invece in soul che poteva avere la stessa potenza dato che è stato fatto di recente e certe cose non si possono più permettere di fare e ma allora non mi farà un film con questa finalità se poi non raggiunge il suo fine quindi secondo me hanno anche sbagliato il tiro perché non si riesce ad arrivare al messaggio finale bene del film perché sostanzialmente si prende un bicchiere d'acqua dicendo ma si alla fine non c'è non è puoi fare anche una cosa per cui non sono segnato di fare che è una cosa che si vede in tutti i cartoni in tutti di base c'è quello come infatti tutti i midi poi la cosa strana è che poi quando io chiedo in qualche gruppo a disney ma non vi sembra che questi film siano tutti uguali è per forza e no ma perché è esopo qui e là ma non c'entra assolutamente nulla cioè di base stanno proponendo le stesse cose anche soul che potrebbe essere un'altra cosa alla fine è sempre un viaggio che fa il protagonista per capire una verità e migliorarsi e quindi cosa sta a significare che rispecchia quindi la trama di Cars rispecchia la trama di The Brave alla fine la trama di Coco anche se poi in realtà in Coco si scopre che in realtà il protagonista aveva ragione erano più che altro gli altri che non gli davano ragione Ratatouille soprattutto cioè è la trama di qualsiasi film che vi venga in mente il fatto che il protagonista ha bisogno di fare un viaggio per capire meglio se stesso e dimostrare qualcosa agli altri e così è riassunto tutta la cinematografia della Disney cioè ma capite quanto è brutto che dopo tra così tanti film uno riesce a riassumervi tutti i film Disney e Pixar il 90% il 90% di tutti i film che ha fatto film e Pixar nella storia cioè vuol dire che è grave questa cosa vuol dire che veramente non c'è creatività ma sembra che non noti solo io e no ma perché esopo qui e là tutti che vanno a giustificare ma non è giustificabile perché non è che se tu non non mostri i bambini che un viaggio che fa il protagonista per migliorarsi allora non filmo i bambini cioè ci sono tesi ma altre trame non è che obbligatorio sempre avere lo schema della favola o comunque quello che già veniva proposto già in Dragon Ball nel senso possiamo anche voglio dire no cambiare un po' tematiche non so se siete d'accordo però mi sembra veramente una roba veramente imbarazzante sapere che in tutti questi film abbiamo comunque la stessa ricetta per lo più e quindi Soul no non può essere un buon film non può essere un buon film è proprio decente cioè raga una roba terribile pretenziosa si crede chissà chi e poi non insegna veramente nulla se non la stessa aria fritta che e quindi funziona perché essendo per bambini sembra una verità incredibile ma è un'acqua riscaldata e questa è la cosa terribile poi nessuno ha niente da dire su questa tier list bene quindi attacchiamo il volo con Dreamworks beh in realtà potrei anche fermarmi alla 2019 perché tanto non li ho visti gli altri in realtà quindi si mi sembra abbastanza completa si fin troppo quindi ci siamo allora dovrebbero esserci sì alcuni quindi non li ho visti d'accordo quindi ehi quante sottigliezze abbiamo qua allora quindi non visti terribili che ne so belli ottimi i migliori via via e via dunque il primo dovrebbe essere vabbè cioè che chiaramente perché immagino ormai sappiate la storia che Dreamworks è nata perché quando stavano analizzando i tuoi stori uno dei fondatori della Dreamworks lo voleva fare più stronzo che proprio voodibulizzava i giocattoli ma ovviamente la Disney ha detto no no libertà creativa fino a un certo punto e quindi appena se n'è andato insieme a Steven Spielberg hanno fondato per la Dreamworks e volevano subito dissare la Disney fortissimo perché giustamente era un'onta troppo rossa e quindi hanno creato appunto il primo Shrek per dissarli per bene eeeh non so se deludervi perché eeeh allora sono indeciso tra le prime due posizioni perché Shrek in realtà no vabbè no vabbè dai sono buono i migliori dai i migliori e dai i migliori assolutamente per tutto quello che sta significare Shrek 2 approfondisce i personaggi c'ha una viene raccontata tutta la storia di Fiona che non è che mi ha entusiasmato tanto insomma è più o meno poi diventano umani quindi c'è anche che viene usato come metafora di questo fatto che appunto diventano umani quindi sì molto vivace molto colorato sì è stato tranquillamente tra i migliori poi 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 toccava a spirit a mani basse e così e basta cioè non c'è da discutere su spirit tra i migliori della New York assolutamente ma anche dell'animazione in generale cioè troppo troppo bello e lo dico io che non è che amo tantissimo i cavalli non mi è mai interessato però appunto sto tema della libertà è veramente comorente che gira per tutto il film poi chiaramente si vede che alcune cose sono soft perché si pensava anche lì i bambini ma questo non ha fermato comunque la complessità dell'opera poteva essere meglio ma chiaramente si sono fermati un attimo giustamente e quindi complessivamente è anche uscito bene poi abbiamo sì ma spirit il cagare in testa mille volte comunque poi abbiamo quindi come dicevo Z la formica idem come Bucks Life sono due poli della stessa medaglia due lati della stessa medaglia secondo me che vanno a coincidere quindi Z la formica deve essere tra i migliori per i motivi che ho detto prima poi abbiamo poi abbiamo Shark Tale ma l'ho dimenticato dall'umanità giustamente perché è fuffa non 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 ha storia non è né brutto né bello è inutile e quando si arriva a questa terza categoria di film è la cosa più tremenda perché almeno uno si ricorda del film che è bello brutto no Shark Tale non ti ricordi niente perché la trama è nulla banalissima stravista in tantissimi altri modi pensavano di essere originali perché era ambientata con i pesci quando c'è perché per un periodo comunque andavano in parallelo quindi dove erano perché per quanto siano non c'entri niente con Nemo comunque guarda caso comunque avevano lo scenario in comune idem con Z la formica che non avrà copiato ma sicuramente c'entra qualcosa l'uscita di Z la formica come Z Shark Tale con le cose della Pixar quindi per me veramente non so cosa ne pensate voi ma è stata una roba una fuffa veramente e hanno ci hanno anche ci hanno anche provato comunque beh o si fantasia mi sarà visto il nome vorrei sapere anche il tuo pensiero se volessi mai scrivere sulle mie chat sei benvenuto comunque stavo dicendo e quindi Shark Tale in realtà non mi ha dato nulla poi non so voi se sì e quindi non so se a qualcuno di voi piace Shark Tale ma veramente forse non ve lo ricordate neanche giustamente perché è colpa del film quindi poi abbiamo allora Turbo non l'ho visto ma non mi interessa vederlo perché mi sembra che sia bello quanto Cars quindi posso evitare poi abbiamo che non ho visto questo che non attira per niente ma sembrano quei classici film che non ti dicono nulla poi lo guardi ed è bellissimo poi abbiamo Home che non ho visto e stavolta questo non mi attira per niente perché sembra che ti ha animato dalla copertina io non so se sia normale comunque Trolls non mi interessa perché sembra solo per vendere poi Baby Boss che sembra che abbiano approfondito già quel personaggio che si vedeva in chi è incastrato Roger Rabbit comunque non è che sia chissà che originalità però poi 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 cosa abbiamo d'altro ah sì ecco anche la gang del bosco e ha lo stesso problema di Shark Tale nessuno si ricorda più una mazza perché non c'è nulla non boh boh non so se metterlo sui non visti questo perché veramente ho il vuoto totale ma l'ho visto due o tre volte me lo ricordo però la trama è talmente fuffa che non entra in testa cioè succede io non so ma cosa c'entra ad anno ma tu tu giudichi un film solo dal doppiaggio perché anche ad esempio anche in True Story 3 Laurenti doppiava Forky ma rimane comunque Forky un concetto idiota per il film comunque devo ancora recuperarmelo ma non mi è ispirato più di tanto e appunto nel bosco sto citando la memoria e io veramente non me la ricordo non non sì sembra quella classica cioè non mi ricordo se c'erano sempre gli animali che voleva che raccontano la la diciamo nella natura e toglie spazio gli animali e quella forse la morale spiegata un po' così ma sì vabbè danno ma cioè il doppiaggio non è che fa diventare il film bello non funziona così poi doppiarlo bello quanto vuoi ma poi soprattutto e tra l'altro ti cito anche Gladiatori di Roma è doppiato da un sacco di VIP ma il film è tremendo quindi non vuol dire assolutamente nulla anzi è un caso che ficcano tutti i VIP in un film che era già tremendo di suo sarà un caso perché non è mai successo in altri film quindi mi sembra strano e boh gli devo dare un'altra possibilità allora perché veramente me lo ricordo inutile comunque vabbè Wallace e Gormit ma che cazzo volete tra i migliori e chi non lo mette tra i migliori secondo me non ha capito bene il film anche perché in realtà sono rimasto stupito quando sono andato in Inghilterra nello scoprire nei musei che Wallace e Gormit equivale al nostro Charlie Brown è proprio una serie di fumetti strisci di fumetti che va tanto in voga soprattutto in Inghilterra e appunto è in esposizione appunto nel museo del fumetto che c'era a Londra e quindi ho apprezzato veramente tanto chiaramente il mio pensiero di volerlo metterlo giù è semplicemente per il fatto che l'ho visto troppe volte ma perché l'ho visto troppe volte perché è troppo bello però a parte questo e poi arriviamo sicuramente a uno dei miei film preferiti di sempre Il Principe d'Egitto porca lo sapete anche voi lo sapete anche voi c'è l'audio è il film più bello cioè finalmente a differenza anche ad esempio di Giuseppe Re dei Sogni che porca miseria terribile non si sa come mai Giuseppe Re dei Sogni è una noia totale cioè tutta la roba epica che si è Il Principe d'Egitto l'hanno tolta totalmente l'unica scena che era un po' adrenalinica era il sogno che si fa Giuseppe nel lì nel campo di grano e lì c'è un attimo di terrore ma puoi anche non vedere il sogno perché non influisce per nulla sulla trama si un po' ha automatizzato il personaggio ma non non incide tantissimo e quindi sembra veramente che col Principe d'Egitto tutti i religiosi si sono offesi perché magari era troppo tetro troppo forte come visione quindi ho dovuto fare Giuseppe Re dei Sogni che è un po' più rispettoso dai però dai non mi distruggete così mi fate Giuseppe Re dei Sogni dopo il Principe d'Egitto ma voi siete fuori dico come comunque a parte questo vabbè Madagascar che io vuoi dire Madagascar allora c'è un cambiamento di religione avrà i debiti con Vincent per questo cerca di approfittarsi dell'ingenuità degli altri per raggiungere il suo scopo minchia sei originale sta trama dopo che me l'avete raccontata sicuramente posso rivalutare la gang del bosco cosa Matteo si è stato veramente tremendo Giuseppe Re dei Sogni per me comunque cosa aveva che non e non lo so non lo so sto ipotizzando che era troppo forte per i credenti e quindi hanno dovuto fare Giuseppe Re dei Sogni che è uno schifo non lo so per quale motivo stavo teorizzando perché mi sembra pazzesco che dopo una cosa epica come il principe d'Egitto mi fai Giuseppe Re dei Sogni che fuffano noioso inconsistente sembra veramente che volevano fare il cartone giusto per per il catechismo cioè è una roba proprio innocente che non non ti dà adrenalina non ti dà emozioni niente la vita di Giuseppe pari pari e ciao una roba tremenda e non è questione di originità non è che un film si buona parte si perché poi tanto essendo dei grossi studi i soldi non gli mancano e quindi sulla grafica non si può mai valutare perché è sempre eccellente per i tempi quindi che gli vuoi dire poi la sceneggiatura la regia si ho capito poi poi insomma non so quanto si possa parlare di regia in un film in CGI perché cioè soprattutto perché non è che non è amatoriale non è un film in CGI fatto da un grosso studio che quindi non mi non è che ci sono brutte inquadrature non ci possono essere brutte inquadrature perché non essendoci attori veri non è che poi cioè devi essere proprio fuori di cocomero per inquadrare male una cosa che hai fatto tu in CGI cioè voglio dire l'hai fatta tu sta lì non puoi sbagliarti per quello che non riesco tanto a valutare la regia in un film in CGI cioè cosa mi sta a significare comunque è appunto la sceneggiatura la trama ha valuto un po' tutto e quindi e comunque però per quello che mi avete raccontato che si cerca di profiteri l'ingenuità degli altri per raggiungere il suo scopo è una trama che comunque esiste da mille anni vorrei avere una buona idea una buona storia ma se non si racconta appunto ma certo eh anche gli attori si ho capito ma allora come ho anche scritto su come articolo su 4Gamers riguardante anche il fatto che il che c'era il uno degli sviluppatori di It Takes Two che dato che Strapper diventava un film una serie stava appunto paragonando il fatto che i videogiochi sono più difficili da fare rispetto a un film e il problema è che confrontava due due ambiti in realtà abbastanza simili prendendo il caso migliore e peggiori di un altro perché allora da una parte do ragione il fatto che manca interazione nel film e quindi non ti devi sbattere a fare mille mondi perché lo spettatore vede solo quello però dall'altra per il resto non è che diventa poi tanto più facile fare fare un gioco perché comunque cioè fare un film perché comunque il dato che ci sono appunto gli attori in carne e rossa come in questo caso non pensiate che siano dei robot anzi è proprio quello il problema ed è anche per questo che appunto preferisco fare comunque i film in CGI io perché se tu sei un regista di film in CGI fai il tuo film punto non è che devi avere a che fare con un attore che dice no ma io la scena la voglio fare così perché gli attori poi sono così perché giustamente hanno studiato non è che studiano per fare il robot e allora annullo il problema e dico faccio il film in CGI così si muovono esattamente come dico io senza problemi senza perder tempo ok così come i modelli durante le nuovezioni in 3D col 2D funziona diversamente ma il 3D non tira automaticamente una buona regia sì 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 certo ci mancherebbe però però comunque stiamo parlando di un grosso studio quindi in realtà non mi sembra non ho mai visto almeno a livello di regia dei problemi nei loro film perché appunto stiamo parlando di grossi studi che almeno su queste cose un po' più tecniche ci azzeccano e la cosa chiaramente difficile da azzeccare magari è una buona trama è da lì che si può anche discutere però è chiaro che sulla regia cioè chiaramente poi ne so assolutamente meno di loro giustamente come tutti valutiamo più che altro il contenuto che ha il film poi più o meno siamo sempre lì non ho visto grandi tragedie di grafiche di regia è quello che sto dicendo poi successivamente abbiamo quel grandissimo capolavoro che tra l'altro sta per uscire il 2 e io non sono pronto di buonanotte sì Mucca è la discorsa Galena in fuga volevo dire che no è stata la migliore assolutamente perché appunto per chi non lo sapesse è una metafora della Shoah quindi ci sono i vari campi è una metafora di congiuntamento palesissima nel nazismo eccetera spiegata ai bambini sostanzialmente quindi è geniale per quello ha la stessa genialità che ho rivisto anche in Robin Hood perché sostanzialmente anche in Robin Hood sebbene in maniera ancora più soft viene spiegata la schiavitura e la dittatura ai bambini qualsiasi persona che no non ti ho detto qualsiasi persona stiamo parlando della Dreamworks non è qualsiasi persona non è che prende il primo scappato di casa so anch'io che se mi metto a fare 3D non faccio dei capolavori del genere perché non sono bravo con la regia ma sto parlando del fatto che se si parla della Dreamworks almeno per una questione di regia lì non vado tanto a discutere perché tanto bene o male non avendo proprio un occhio specifico per la regia non trovo nessun errore tutto qua ma perché è un grosso studio chiaramente ma poi è chiaro che se uno qualsiasi si metta a fare può sbagliare ma ci mancherebbe ma non è quello che sto dicendo devi comunque contestualizzare che parliamo della Dreamworks è ovvio comunque quindi stavo dicendo abbiamo questo Galini in fuga che non so perché ci devono fare un sequel ma poi cosa cosa vuol dire perché secondo me poi il sequel di Galini in fuga secondo me non ha molto senso perché semplicemente nel primo film sono scappati dal appunto dal pollaio che era lì la metafora se sono scappati fai un sequel che tradisce il primo sostanzialmente ma perché non può esserlo perché o fai che questi qua a un certo punto diventano dei supereroi cringe polli che salvano tutti i polli dal dal pollaio ma mi sembra una roba un po' strana come trama ho visto solo che ovviamente i due ma che strano il gallo e la gallina hanno un figlio chi l'aveva mai detto che in un sequel del genere ci fosse stato il figlio comunque poi abbiamo dicevo quindi Madagascar Madagascar è un bel problema perché per carità corale allegro eccetera allora devo pensare più che altro poi la prima volta perché chiaramente poi guardandolo perde di fascino perché dopo un po' ti stufa poi in realtà Madagascar io lo metterei in realtà non è che sia tutta questa roba eccezionale dai è bello è giusto bello dai non esageriamo troppo poi abbiamo allora abbiamo vabbè partiamo quindi col primo Kung Fu Panda che è anche qua che cosa vuoi dire Kung Fu Panda cioè dai non gli si può dire niente a Kung Fu Panda è veramente un film completo e della prima volta che ho visto che un brand riesce a tirare avanti fino al terzo capitolo senza perdere di qualità ma allora allora vedete che semplicemente non mi impegnate ma avete le capacità per tirare avanti un brand a lungo senza che faccia schifo è la dimostrazione Kung Fu Panda e allora quindi poi poi parliamo invece di Madagascar 2 che è un è un film che manco da Dreamworks si aspettava si vede perché non ad esempio c'è solo una cosa che ti fa capire che Madagascar 2 è totalmente improvvisato la macchia sulla zampa di Alex nel primo film più volte si inquadrano le mani di Alex anche perché poi sclero e non c'è taccia di sta macchia e mi fai il 2 perché però avevi bisogno di mettergli una macchia e vabbè e allora e vabbè allora e allora cioè ma capisci perché allora mi devo incazzare perché se poi mi tiri avanti Kung Fu Panda per tre per tre film senza mai fare questi spedienti poi per Madagascar per tirarlo avanti se hai bisogno di crarmi una cosa che nel primo film non c'era allora vuol dire che c'è un problema eh scusa quindi eh eh sì eh quindi è la stessa cosa non si può non si può dire altro è la stessa cosa e poi ecco su Madagascar 3 così magari concludiamo un filone c'è c'è un delirio totale non si capisce tutta una roba sua che con Madagascar c'entra veramente poco io ho paura che facciano un quarto capitolo che è ancora più off topic rispetto al tema di Madagascar ma tutta una roba sono poi andati fuori di testa hanno preso il brand e l'hanno spappolato non so cosa sia successo no è un po' meno un po' meno poi perché magari se lo prendi come il film a parte Madagascar 3 è anche più in alto di classifica però se devo prenderlo come giusto che sia come il terzo film di Madagascar e no e no sì ma non solo c'è non ci sono buchi di trama il protagonista è abbastanza originale magari non tantissimo però riesce a non ricordarti nessun altro che quindi è una buona cosa che perché chiaramente i protagonisti imbecilli che poi riescono ce ne sono tanti parecchi ma non come Kung Fu Panda e quella è la cosa che mi è piaciuta e insomma anche lì appunto di Madagascar 2 come ti dicevo sono indeciso in realtà ecco probabilmente lo sono già strano eh lo lo comunque ha notato ma la gente lo riscatta lo stesso quindi ti stavo dicendo quindi eh in realtà sempre Celestini grazie e boh quindi come stavo dicendo in realtà io li metto tutti qua e il problema però l'unica cosa che devo dire però di Kung Fu Panda è tutto lo resto che hanno fatto di Kung Fu Panda che appunto dato che l'hanno fatto giustamente per parlare ancora di più come se servisse di Kung Fu Panda hanno fatto delle mezze cagatine tipo lì Legend 5 Cicloni eccetera che non ha proprio senso bastavano bastavano questi tre film nella vita voi siete a posto non avete bisogno di vedere gli altri spin off corti va bene così con i primi tre siete tutti contenti comunque poi dopo sì sì va beh idem idem no guarda no guarda no guarda la Pinguini no no proprio è una roba perché stavano funzionando anche per contro loro ho detto allora facciamo una roba veramente una roba indegna poi abbiamo giù per il tubo che porca miseria ma io non ho mai visto un film così faticoso così campato per aria che sembrava che ogni volta giù per il tubo dovessero per forza dai c'era questa nuova idea dai tiriamo adesso c'è quest'altra la tiriamo una roba terribile signori terribile giù per il tubo terribile invece Sinbad secondo me è troppo sottovalutato io voglio che la gente abbia visto almeno un'altra nella vita Sinbad perché non so se mi sembra che anche da noi sia uscito solo in dvd quindi è proprio è stato fin dall'inizio sottovalutato chiaramente non lo metto ai livelli di quegli altri però è un ottimo film cioè c'è poco da fare c'è un'avventura così super originale che ha un riecheggia un po' come il pianeta del tesoro ma non tanto proprio veramente c'è un filino per chi ha visto tantissimo sia Sinbad che il pianeta del tesoro può vedere una leggerissima somiglianza e quindi risplendendo anche di quel fascino riesco comunque a metterlo molto in alto poi abbiamo e allora capitano mutanda dovete vederlo fidatevi è veramente un bel film anche perché chi ha visto io anche forse ho letto in realtà ho letto quasi tutte le sue avventure in realtà fumetti perché ne ho visti perché appunto ne avevo 3 o 4 da bambino e li ho letti praticamente tutti quindi e che dire e a parte che appunto sembra di vedere il film dei pian nudes quindi di small picture di brown eccetera ha lo stesso stile e mi piace parecchio devo dire sta a livelli di Sinbad dai non ci allarghiamo troppo poi allora bmovie allora parliamo di bmovie io non so cosa allora perché allora è partito come un bel film ambientalista ma poi molti hanno avuto dei dubbi sul rapporto di due personaggi che c'è stato tra l'ape e la ragazza perché veramente se l'ape non fosse un'ape qualcosa era scattato perché si vedeva che non era un animale domestico ma era qualcosa di più cioè l'hanno un po' gestita male il rapporto e sì e poi appunto non sì anch'io l'ho visto 2 o 3 volte poi sono morto in realtà e sì e quindi va bene qua allora i Kurtz anche qua i Kurtz la gente sottovaluta i Kurtz e io non so il motivo perché in realtà è enorme perché a parte che non siamo in Flintstone ma neanche per sbaglio ma veramente è proprio un'altra storia che ranni luce lontana dai Kurtz dai Flintstone proprio non c'entra nulla quindi state tranquilli che non è che se vedete una famiglia di un'impermittiva l'ho sono in Flintstone non vuol dire niente i Kurtz in realtà è veramente un bel film in realtà per famiglie ma che può anche essere visto abbastanza per qualsiasi età credo perché comunque c'è un interessante sviluppo originale che in realtà si imparano ad amare solo perché hanno delle difficoltà se no potevano dirsi tutta la vita quindi è bello anche sto messaggio quindi e in realtà è un ottimo film quindi poi arriviamo il Gordione della Galassia una e si ciao ciao i Gordioni della Galassia ciao ciao no i i i i cinque cicloni giusto aspetta Rise of the Guard non mi ricordo come si chiamano cosa le cinque cicloni erano le cinque leggende sì le cinque leggende i cinque cicloni sono da Kung Fu Panda tutto un delirio ma perché le cinque leggende si si chiamano Rise of the Guardian eh sì più o meno anche qui sotto ricordato solo perché Jack Frost starebbe bene con Elsa questo è tutto quello che l'umanità si ricorda del film ed è un grande dispiacere perché in realtà è una roba maestrosa tutti tutte le leggende rese più adulte nei limiti del possibile veramente veramente un'opera matura per quanto poi parli anche ai bambini in alcuni tratti però veramente veramente un'opera matura ed è una una di quel genere di opera che non vedevo nei tempi di Polar Express che pensavo se Dreambox a quanto pare no però anche Polar Express l'ho apprezzato molto eh sì potrei già vederlo perché è già da un po' riuscito e quindi sì è un ottimo film dignitosissimo da vedere davvero da non perdere mostri contragliani devo vederlo ah poi mi sono scordato di sua eccellenza Eldorado che secondo me Eldorado soffre lo stesso problema di Atlantis ovvero che finisce troppo presto veramente una trama frettolosa io non so perché cioè Eldorado esattamente poi anche come Atlantis inteso come luogo potevano raccontarne di ogni e invece eh lo trovo troppo riduttivo e quindi io lo voglio penalizzare in questo senso e rimane un ottimo film poi abbiamo Megamind che ehm secondo me eh anche questo è da mh da vedere assolutamente perché eh di film che trattano di super cattivi non ce ne sono tanti purtroppo ma questo è abbastanza originale non è stupido come sembra e quindi è molto molto sottovalutato ma niente di incredibile cioè secondo me viene anche pompato un po' troppo quindi in realtà è bello chiaramente non è una roba da Eldorado però bello sì poi allora sto Dragon Trainer io non Dragon Trainer a me sembra sopravvalutato io non so che farci tutti i quali con il capolavoro con i draghi di là ma stiamo calmi non è una roba pazzesca non è che ci ficcano i draghi allora non vedo più le solite tematiche del ragazzo che si riscatta siamo sempre lì la solita minestra che però ci ficcano in mezzo i draghi allora la gente va fuori di destra io non lo so infatti avevo visto forse i primi due ma anche ho visto il terzo per dire perché veramente non è che sia tutta sta trama poi la serie tv che hanno fatto è una roba ancora peggio quindi di sito vabbè poi sicuramente sono decenti questo è poco ma sicuro ma è una roba che dicono sì puoi vedertelo ma niente di che sì buonanotte questo non l'ho visto il 2 poi arriviamo a shrek terzo che anche qua inizia a casino pazzesco il brand viene stirato come va a cascare non so il motivo che sono veramente disperati non sanno più cosa metterci e possiamo metterci il merlino perché tanto la spalla è una roccia è vecchia quindi non ci diranno nulla poi mettiamo le arture poi non è un vero re è una roba confusionaria e si perde un po' e pian piano si sta perdendo di vista il motivo per cui è nato shrek ovvero di stare alla disney perché in realtà sembra che d'altranzi in poi shrek si sia creato un mondo tutto suo e non ha più quel focus di prenderlo alla disney e quindi perde un po' il suo fascino in realtà e quindi sì è vero è pazzesco beh in realtà forse qualcosina di shrek e di shrek è carino da vedere ma non di più comunque shrek terzo io te lo metto no è proprio beh giusto bello ma e idem questo forever after non l'ho capito non è completamente a caso perché perché poi questo è l'errore che fanno ogni volta che danno sempre per scontato che Tremotino comunque il cattivo che devono presentare è da anni che segue le vicende non si è visto mezza volta nel film e a un certo punto decide ma sì spaugniamolo così per farci il sequel beh compare a caso ma un disastro te vabbè carino da vedere perché vedi le cose alternative e in realtà dà anche un po' fastidio perché shrek è un incapace perché allora e un attimo si sorprende e siamo d'accordo sul fatto che appunto va in questa alternativa dove ci sono gli occhi ancora odiati ma siamo d'accordo ma quando incontra Fiona perché è un imbecille cioè aveva già capito in quel punto del film che era tutto diverso e Fiona non lo cagava di street show si vedeva palesemente lui fa tutte le cose sbagliate per riconquistarla e baciarla è bellissima come cosa comunque cioè proprio l'idiozia fatta personaggio è una roba pazzesca e poi il grotto con gli stivali l'ho visto tipo mezza volta ma perché e mi sono sempre chiesto sì cauccio ma perché spenderci i soldi per produrre un film del genere voglio dire secondo me i soldi sono importanti e non bisogna spenderli per questi film poi non so voi però mi è dato questa impressione che l'hanno giusto fatto perché se lo potevano permettere ma secondo me se era uno studio risicato non perdeva tempo a fare perché allora facciamo anche i film sul ciocchino ma non ha senso cioè e quindi boh se lo volete vedere per me è decente ma niente di spettacolare quindi penso che il film è quello di no dai no no dai no dai no il gatto con gli stivali no non me lo puoi dire che bello dai ma dai ma che cosa c'è giusto perché dovevano fare ma perché allora ma poi una cosa e idem come hanno fatto con i bingoni della madre cascarlo lo fanno 3000 volte prendono un personaggio che funziona anche da solo e lo buttano in un film solitario ma basta nel senso allora gli aspetti negativi come al solito è il fatto che di nuovo la trama idem come la gang del bosco idem come giù per il tubo idem come Shark Tale non me la ricordo granché sì vabbè un po' più action un po' più bella da vedere però ma che cazzo ma basta con sti film basati sul personaggio che funziona da solo dai sembra veramente lucrare sul marchio ancora di più perché c'era bisogno dai ma cosa vuol dire farmi una storia a parte sul gatto con gli stivali ma è veramente una roba terribile comunque che non mi ricordo la trama assolutamente ma idem come i mostri contraglieni che in realtà io ho cercato di vederlo l'ho visto tipo un pezzo quindi ho messo a punto che non l'ho visto e tutto il resto dovevo proprio vedermelo da zero e poi in realtà dovrei anche vedermi in cruise 2 che qua manca stranamente e mi interessa assai perché mi è piaciuto il primo e poi che dire in realtà si è fatta già una certa mi ricordo giusto il gatto di stivali a parte la gatta in copertina mi ricordo giusto l'uovo già hanno fatto mille meme su sto uovo io veramente comunque vediamo un po' chi abbiamo da ridare eccoci qua lasciate nella chat beh sì cambiamo un po' e vi porto a vedere e la manuela del drago e già si chiama così no vabbè ma a parte quello dicevo mi ricordo l'uovo soprattutto per i meme tutto e noi ci vediamo domani con perché non me lo ricordo mai cosa abbiamo domani sto giovedì maledetto cosa abbiamo giovedì allora abbiamo in programmazione ah Tomb Raider Legend già che mi scordo sempre e sapete la cosa buffa è che forse devo recuperarmi il salottaggio vabbè che non l'abbiamo fatto molto per fortuna di cioè anniversary che cazzo dico anniversary abbiamo comunque e quindi noi ci vediamo domani rimanete per i ride per cortesia perché di solito i ride sono tutti incasinati comunque ciao da Mr. Watt che cazzo